Purtroppo sì, un botto forte, tempo di capire cosa era successo perché si pensa subito che sia successo in casa propria e invece praticamente siamo usciti, sia io che poi quelli dei vicini di casa e abbiamo visto che erano in un palazzo. Un grande spavimento? Ma sì, lo spavimento è perché ti svegli con un botto che sembra una bomba. Poi inizio un attimino a renderti conto, cerchi di guardarti intorno e hai visto questo casino. Cosa hai visto? Cosa non ho visto, non c'era più la casa. La mia casa per fortuna, tranne i vetri infranti e la porta bloccata, per adesso sembra che non abbia avuto problemi strutturali. Quindi mi ritengo molto fortunato, io e la mia famiglia. Non mi siete vittime. No. In casa quelle c'erano i bambini anche, mi scusi? Sì, sì, c'è la mia famiglia. Grazie.